Sono Marilena Filograno, ho 53 anni, sono un'insegnante di scuola primaria e da circa un annetto accuso problemi lombosciatalgici dovuti ad una discopatia diffusa della colonna nel tratto lombosacrale. Durante l'estate ho avuto una serie problematica di infiammazione del nervo sciatico e ho sofferto moltissimo rispetto all'articolazione infiammata che non mi consentiva movimenti sciolti e avevo grosse difficoltà anche nel deambulare. Ho trascorso un periodo di riposo anche dal lavoro e tramite una persona amica ho conosciuto il prodotto Solidol. Mi è stato spiegato le componenti di cui è fatto e ho voluto provare l'utilizzo. Ho applicato il prodotto Solidol sulla zona lombosacrale e anche nel tratto del muscolo del gluteo dove accusavo maggiormente il dolore. L'ho applicato due o tre volte al giorno prima del riposo notturno al mattino e anche durante la giornata nel momento magari in cui il dolore si manifestava in maniera più acuta. Dopo circa 3-4 giorni mi sono resa conto dei benefici che mi ha portato rispetto al dolore al dolore, alla sensazione del dolore, al processo infiammatorio perché ecco ho avuto ecco la sensazione della diminuzione del bruciore vero e proprio e del dolore nella parte descritta. Per cui diciamo c'erano dei momenti in cui sembrava che il dolore fosse scomparso. Ovviamente le applicazioni sono state continue e costanti accompagnate anche da fisioterapia e quant'altro. Però laddove dovevo porre rimedio al dolore molte volte è stato un prodotto sostitutivo del farmaco. I benefici sono stati diciamo più che positivi. Ripeto da un punto di vista lenitivo, antinfiammatorio, balsamico, rilassante.